La priorità resta quella di trasferire i beni al comune ma Piazza del Popolo faccia presto perché noi abbiamo necessità di vendere. È il messaggio che arriva dalla città ospedaliera di Avellino a proposito dell'ex Moscati di Viale Italia e del Maffucci. A parlare l'ingegner Sergio Casarella, capo dell'ufficio tecnico. Stiamo ragionando su uno scambio di beni. Al comune l'ex Moscati di Viale Italia e a noi la proprietà della struttura di Contrada Amoretta che aspettiamo da anni. Le condizioni per poter chiudere questo trasferimento sono favoribili, sono di interesse di entrambi gli enti per cui riteniamo che ci siano buone possibilità che si chiuda questa procedura con interesse e con buone prospettive per tutti e due gli enti. Sono strutture su cui abbiamo investito ma che la regione ci chiede di non lasciare deperire e che comportano costi quotidiani. Sì, sia l'ospedale di Viale Italia sia l'ospedale Maffucci sono stati oggetti di interventi specifici che hanno previsto una prima fase di adeguamento strutturale e per l'ospedale Maffucci anche una fase di adeguamento funzionale. Di concreto al momento non c'è niente con il comune se non buone intenzioni. Inevitabile che ci stiamo guardando intorno anche se manifestazioni di interesse da privati non ne abbiamo avute. E' chiaro che laddove ci dovesse essere un non interesse da parte del comune o un non riuscire a trovare la quadra del trasferimento ci guarderemo intorno, metteremo su un bando che prevede l'alienazione e la vendita dei beni. A margine Casarella parla anche del parcheggio multipiano della città ospedaliera che sarà pronto a ottobre. Confermiamo che l'attività del parcheggio che è stato realizzato possa partire effettivamente il primo ottobre. I lavori sono sostanzialmente completati.